E' stato mandato in crisi il comune, da chi? Da chi voleva continuare nel legalismo e nel tenere la vecchia classe dirigente? E uno dei maggiori protagonisti di questo è in lista con il professor Monti. Io scendo dalla destra, dalle posizioni politiche, la Lega, il PDL, i suoi giornali, che a loro modo, no? C'è quel sistema lì, vanno il subliminale e lasciano quasi intendere che attorno a sta roba ci sarebbe qualcosa di men che corretto da parte nostra. Lo affermassero che li spragniamo. Grazie a tutti.